Siamo con il presidente nonché capitano della squadra del Salzerpina, Carmine Sarno, qui nelle immagini capitano della squadra. Ecco Sarno, adesso con questa vittoria di 4 a 3, davvero la squadra ha dato il tutto e di più per poter raggiungere quota 39 punti. Terza posizione a un punto da Rizla Group e a 6 punti dalla squadra del Centro Storico Avellino. Ecco, secondo lei ce la potete ancora fare a vincere il campionato definitivamente? Salve a tutti, buonasera. Beh sì, oggi abbiamo dato il tutto per tutto, ci siamo trovati più di una volta in svantaggio. Non abbiamo mai mollato e forse il risultato giusto, il 4 a 3 ci sta che abbiamo portato a casa i tre punti. Per quanto riguarda la classifica nulla è ancora scritto e sinceramente siamo lì e ci proviamo e ci proveremo fino alla fine. Ecco, è stata davvero una bella gara, in realtà si è visto un Salzerpina soprattutto nel secondo tempo molto slanciante. L'allenatore quindi ha effettuato un'impostazione tattica che ha fatto sì che la sua squadra praticamente potesse riuscire a vincere questa gara. Il mister negli spogliatori del primo tempo ci ha dato una bella strigliata e sinceramente al pronti via abbiamo cercato di mettere in atto subito le sue intenzioni. È una persona che comunque ci sta dando tanto sia alla causa sia alla nostra società sia per l'immagine del nostro paese e la vittoria è dedicata anche soprattutto a lui e anche al mister che ci guarda dall'alto che qualche tempo fa è venuto a mancare. Ecco, Presidente, secondo lei attualmente il campionato è ancora aperto? Non è detto che il centro storico Avellino in questo momento è già vittorioso di questo campionato? Sicuramente loro avranno delle partite più abbordabili. Noi sembra che in ogni partita, come si sono viste pure nelle immagini, le partite trovano degli stimoli in più per metterci alle corde o per metterci in difficoltà. Ci proveremo fino alla fine e bisogna guardarsi bene un pochettino tutti perché il campionato è ancora aperto, ci mancano ancora sei partite e ci proveremo fino alla fine. Quindi come il centro storico, anche Rizla, anche chi sta forse molto più vicino a noi come il Castelfranci può ambire ancora a dire la sua nel campionato. Ecco, secondo lei le probabilità giustamente sono più per i play-off o per vincere il campionato? Secondo lei ci può dare una delimitazione? Noi eravamo partiti per migliorare la classifica dell'anno scorso, poi ci siamo trovati là e ci abbiamo creduto fino a quando eravamo primi. Adesso il nostro primo obiettivo è di cercare di trovare la migliore posizione nella griglia dei play-off per poter disputare le partite in casa e poi si vedrà se la fortuna ci assisterà, perché no, può darsi che riusciamo ad andare in prima senza dover fare i play-off.